buongiorno amici del vaso di pandora ebbene l'evidenza che da alcuni anni l'italia rappresenti veramente il laboratorio prediletto per la sperimentazione e anche direi per la messa in atto concreta di un nuovo ordine mondiale ancora una volta non è stata smentita infatti domenica scorsa a milano c'è stata la manifestazione di protesta delle famiglie arcobaleno contro lo stop del comune alla registrazione dei figli di coppie nate da genitori dello stesso sesso questa notizia di per sé importante fa pandora con altre notizie che sono sullo stesso genere come quella della nascita della clinica dell'ospedale della struttura che permetterà alle persone che tra virgolette soffrono di disforia di genere di poter accedere al meccanismo che permetterà e permetterebbe loro di cambiare rapidamente il proprio sesso notizia che tra l'altro ancora una volta rimbalza news simili come quella appunto sempre nel veneto che vede questa volta protagonisti gli studenti soprattutto gli studenti liceali in lotta per il riconoscimento delle carriere alias all'interno delle scuole quindi tutte delle notizie un insieme di notizie che sembrerebbero essere tra loro incoerenti sparse e caotiche ma che in realtà presentano il quadro di un disegno molto ben organizzato e molto ben congegnato che è quello della creazione di una società appunto fluida una società in cui viene eliminata progressivamente ogni differenza di genere e una società in cui ogni smussatura ogni elemento spigoloso viene abilmente fatto fuori proprio in nome di questa stessa fluidità e di questa possibilità di uniformare il genere umano in maniera totale quello che a noi interessa è comprendere la strategia attraverso cui questo progetto viene messo concretamente in atto si tratta di una strategia molto semplice ma anche molto subdola al tempo stesso in primo luogo viene creato ad arte un problema laddove il problema non esiste o comunque è un problema di ordine secondario a questo punto il problema viene associato ad una minoranza minoranza che viene fatta passare per vittima da questo momento in poi la grande macchina della narrazione e della politica si muove per tutelare i diritti di questa minoranza lesa con il piccolo dettaglio che in questa dinamica magicamente quella che era originariamente la tutela dei diritti di una minoranza si trasforma di fatto nell'obbligo da parte della maggioranza di accettare quegli stessi diritti tutelati in questa maniera in maniera molto molto invisibile viene a crearsi una dicotomia una dicotomia tra due parti della società delle vittime e tutti coloro che non sono allineati a alla grande narrazione diventano immediatamente dei carnefici ma lo abbiamo visto lo abbiamo visto negli ultimi anni il processo messo in atto dalla grande narrazione è esattamente molto semplice ed è quello di creare ad ogni costo delle fazioni di ridurre la complessità della realtà a qualcosa di molto minimo che è quindi una semplice opposizione like non like sono d'accordo non sono d'accordo nella modalità semplice propria dell'ora mai della della comunicazione del modo di elaborare le proprie idee come ci viene proposto ad esempio dai social come ci viene proposto da facebook e a questo punto qualsiasi persona qualsiasi cittadino che abbia una facoltà di ragionare di pensare in maniera indipendente viene gettato viene tirato in un ring dove non esistono alternative o mi dici da che parte stai o immediatamente sei tacciato come un nemico ed è questa la modalità che fa sì che tutte le persone vengono assorbite in questo vortice infinito che è quello poi che trasforma ciascuno di noi da libero pensatore a eventuale nemico dei diritti della democrazia dei diritti delle minoranze dei diritti dell'uomo in generale il consiglio a naviganti è molto semplice ed è appunto quello in primo luogo di non lasciarsi mettere con le spalle al muro e non lasciarsi trascinare nella mischia agire in maniera tale da schivare i colpi della grande narrazione del modo attraverso cui la grande narrazione opera ad ogni istante insinuandosi in maniera capillare all'interno della nostra esistenza quotidiana all'interno delle nostre relazioni all'interno della società della cultura in cui viviamo questo perché possiamo continuare a affermare in maniera libera e autonoma il nostro pensiero sapendo per di più che non abbiamo necessità a ogni istante di doverci giustificare del fatto per cui abbiamo scelto di ragionare con la nostra propria testa e non seguendo i dettami degli stereotipi che a ogni istante vengono diffusi a livello globale. Abbiamo iniziato a parlare oggi facendo riferimento alle manifestazioni delle famiglie arcobaleno a Milano facendo riferimento alla nascita di queste strutture ospedaliere che permetteranno ai giovani di permutare in maniera semplice e diretta il proprio sesso facendo riferimento anche agli episodi delle disordini studenteschi e delle occupazioni studentesche soprattutto a livello di licei e soprattutto per quello che riguarda la situazione del Veneto per rivendicare le cosiddette carriere alias quindi tutto ciò che riguarda il tema della fluidità. È bene comunque ricordare che quando si parla di fluidità, di smussamento delle differenze, di eliminazione di ciò che genere non si sta mai parlando unicamente di un qualcosa che ha un aspetto semplicemente materiale. È qualcosa di molto più profondo per cui quando si parla di uomo e di donna e di eventuale eliminazione delle differenze di uomo e di donna non si sta parlando unicamente di qualcosa di fisico, di biologico, di anatomico ma si sta parlando in realtà della personificazione di due principi sacri e di due principi metafisici, di due principi che in oriente vengono sintetizzati nella dimensione dello yin e dello yang, termini che molti di voi già conoscono per cui esiste un polo yin che è un polo passivo, è un polo femminile, è un polo lunare, è un polo fluido e ricettivo che si combina in maniera complementare, quindi non esiste opposizione, con un polo yang che invece è un polo maschile, è un polo solare, è un polo attivo, è un polo che agisce per cingere e per difendere. Se noi vediamo le cose da questo punto di vista, quindi se sentiamo che l'uomo e la donna non sono semplicemente un maschio e una femmina ma sono l'incarnazione su terra di due principi metafisici profondi, capiamo immediatamente che quando parliamo di uomo e donna stiamo parlando di qualcosa molto profondo che rispecchia un ordine che va al di là dell'uomo stesso e che riguarda l'armonia che regna nell'universo. Se non esistesse il sole e se non esistesse la luna e se questi due elementi non fossero tra loro in alternanza e in perfetta complementarietà avremmo una sorta di sluna, un sole quindi che non è un sole, una luna che non è una luna, non esisterebbe più il giorno e la notte ma avremmo invece un moto rettilineo uniforme di un tempo grigio che è un tempo che non è più appunto giorno e che non è più neppure notte. Se non avessimo l'alternanza delle stagioni, quindi una stagione infernale e fredda, di raccoglimento, di pausa, di accoglimento e se questa stagione non si alternasse invece a una estate calda che permette quindi ai frutti di maturare, ai campi di generare il prodotto della loro fatica di un anno, non esisterebbero più le stagioni, avremmo semplicemente uno scorre grigio insulso del tempo che non permetterebbe a nulla di ciò che esiste nell'universo, non solo di nascere ma anche di crescere, di riprodursi al momento debito di invecchiare e morire proprio perché possa dar vita a nuova vita. Questo è importante, non riguarda semplicemente la visione religiosa che ovviamente è importante ma va al di là della stessa visione religiosa perché investe realmente il campo della metafisica e della sacralità in assoluto. Cerchiamo di guardare i fenomeni al di là della loro apparenza materiale. Quando si parla di fluidità non è messa in gioco quindi semplicemente il pericolo che le famiglie si disgreghino e che i bambini del futuro o del presente abbiano due papà o due mamme che poi giocano tra di loro a chiamarsi una dei due papà o mamma a loro volta. Quello che viene a decadere in maniera estremamente pericolosa è proprio l'esistenza di questi due poli metafisici che sono due poli necessari perché permettono la vita sulla terra e permettono la vita sulla terra in maniera armoniosa. Se noi scendiamo ad esempio a un altro esempio molto semplice, molto diretto e molto materiale che è quello dell'elettricità. La stessa elettricità esiste perché esiste un polo negativo e un polo positivo e non è che il polo negativo dell'elettricità è buono e quello negativo o viceversa è positivo o negativo. Non è questione di valore, è necessità invece che esistano tutti e due, che agiscano in maniera armoniosa perché se non esistesse nell'elettricità una differenza di potenziale l'elettricità stessa non potrebbe esistere. Quando questa differenza potenziale che è garantita da questi due poli sacri che si incarnano ad ogni livello nella realtà e che si incarnano anche in questa dimensione dell'uomo e della donna, ebbene se non esiste questa differenza di potenziale, questa armonia e questa energia creata da questi due poli, cosa accade? Accade che l'universo è destinato ad affievolirsi, a perdere energia, ad appassirsi e in tempi più o meno brevi a morire. Quindi questo è il destino e questo è l'invito di guardare al di là dei fenomeni materiali perché quello che sta cambiando è ben altro che la natura di una società ma è invece il corso stesso delle cose.